Cari amici, prima di tutto vi ringrazio davvero di avermi invitato ad essere con voi in questo importante convegno e mi dispiace di non poter essere con voi ma quello che sta avvenendo in questi giorni in Siria è talmente grave e talmente preoccupante che mi obbliga a essere continuamente in movimento tra Ginevra che è la sede dell'ONU per quello che riguarda la mia missione e la regione e mi avrebbe davvero fatto piacere essere con voi e ascoltare anche gli interventi degli altri che hanno molto da insegnarci in questo campo, nel campo del soggetto di questa conferenza e di poter rivedere una delle più prestigiosi e antiche università del mondo e una delle città che amo molto. Quindi permettetevi di contribuire via video. La morte è una certezza, è una certezza a cui dobbiamo tutti prima o poi, prima meglio che poi, prepararci e accettarla. Credo che non ci sia nulla di più certo. Io sono, ve lo confesso e sono ben lieto di farlo, religioso. Quindi credo a una vita dopo e credo al fatto che la morte è una fase che ci prepara a qualcosa di diverso. Ma mi rendo conto che questo non si applica a tutti, ma mi rendo anche conto che anche chi non crede deve comunque affrontare questa certezza. Ora, prepararci alla morte in generale è qualcosa di completamente comprensibile e direi doveroso, ma questo è quando la morte non è causata da altri esseri umani. Quando non è all'improvviso è capitata a chi non aveva nulla a che fare con un conflitto. Invece quello che noi vediamo, io vedo, ma noi tutti vediamo davanti ai nostri occhi, è che invece la morte causata dagli altri esseri umani in conflitti sempre più frequenti, più micidiali, è diventata quasi una routine terribile alla quale ci stiamo forse e ingiustamente abituando e non dovremmo. Immaginate che quello che nel mio caso in particolare, vista la mia specializzazione nell'ONU, quella di cercare di ridurre i danni di un conflitto e se è possibile ridurli al punto di fermarli o comunque di ridurre l'impatto sulla popolazione civile, in 46 anni io ho partecipato in termini umanitari o politici nel ridurre l'impatto di 19 conflitti. E quello nel quale mi trovo attualmente coinvolto è forse il più orribile che ho potuto vedere con i miei occhi finora. Quando siete popolazione civile e non sappiamo per quale motivo veniamo bombardati a destra o a sinistra, ma semplicemente perché abitiamo in un luogo che guarda caso è controllato dall'opposizione o dal governo e di conseguenza diventa luogo in cui si possono usare gli strumenti più aggressivi della guerra, beh, abbiamo un problema veramente grave. Se a questo aggiungiamo il fatto che in questo periodo i conflitti sono diventati sempre più frequenti e due, hanno una natura diversa dal passato. Uno, perché c'è un nemico che noi non conosciamo, che non abbiamo cercato, che non vogliamo e che non sappiamo per quale motivo ci odia e per quale motivo vorrebbe ottenere un risultato nell'ucciderci in una metropolitana, in un ristorante, in un bar, il terrorismo. E questo è un elemento nuovo. Due, perché in effetti sono diventati conflitti nei quali si usano armi sempre più micidiali. La guerra civile in Spagna è stata una guerra terribile, sappiamo che c'è stato forse un milione di morti, ma gli strumenti di guerra erano diversi da quelli che vengono usati oggi. Oggi abbiamo, e vediamo per esempio in Siria, l'uso di cluster bombs nelle zone urbane, l'uso di barili bombe, completamente crudemente, indiscriminatamente crudeli, che cadono distruggendo un intero palazzo. O le bombe, come abbiamo visto, usate dall'opposizione, che sono delle bombole da gas, riempite di chiodi e di esplosivo, che vengono lanciati a un chilometro, e dove vanno, vanno, purché creino terrore. Vediamo che le nuove regole di questi conflitti, nel caso specifico della Siria, non hanno regole più. Le convinzioni internazionali, completamente a parte. Qualunque tipo di remora morale scomparsa. E devo dire, da una parte e anche dall'altra, anche se le due non sono proporzionate nel tipo di uso e nel tipo di risultati, purtroppo, omicidiali. Ospedali, colpiti, e colpiti più di una volta. Infermieri, colpiti, e colpiti quando vanno a salvare o a cercare di curare chi è stato colpito pochi minuti fa. medici, colpiti proprio perché sono medici, donne, bambini, nessuna remora. L'uso del gas di clorino o di gas asfissianti, ancora una volta, nessuna remora. Ora, tutto questo ci porta ad essere, in qualche maniera, consapevoli che siamo in una fase veramente pericolosa per l'umanità. Forse più di prima. Anche perché questo tipo di conflitti, se non viene arginato, può diventare una forma quasi accettabile o tollerata. Mai. E la Siria è l'esempio più eclatante oggi di questo. Ora, tra voi ci sono dei medici, lo so. Ci sono dei psicologi. E posso dire che uno degli elementi, forse, che mi aiuta a volte a dare un motivo alla logica che noi cerchiamo di applicare in termini di politica internazionale è quella della medicina. E nella medicina la regola principale è la prevenzione, come sappiamo. Ebbene, il conflitto siriano poteva, doveva essere, avere un atto di prevenzione. Cioè, in qualche maniera, dovevamo tutti coinvolgerci molto di più quando il conflitto era molto più semplice a risolvere. Oggi è diventato metastatizzato. Abbiamo almeno nove differenti nazioni che sono coinvolte in una forma o nell'altra proprio nel cercare di sostenere l'una e l'altra parte. Tutti dicono che non vogliono una soluzione militare, ma in effetti è che vogliono una soluzione politica. Che noi abbiamo. Abbiamo varie formule. Quelle non è difficile trovarle se c'è la volontà. Ma la realtà è che, mentre parliamo, c'è ancora un tentativo dall'una e forse dall'altra parte, sperando di poter recuperare dopo, di una soluzione militare. Ora, cosa possiamo di fatto fare? La prima cosa, secondo me, è quella di cercare di imparare dal passato. E anche, anche se molto tardi, evitare ad ogni costo che ci siano gli errori fatti in Iraq, che stiamo ancora pagando con la rinascita dell'orrore di Daesh a Mosul e altrove, o in Libia, dove in effetti c'è stato l'errore madornale di a un certo momento abbandonare un paese dopo che c'è stato un cambio forzato del regime, semplicemente sperando che ce la faccia da solo. Per questo è così importante in Siria, nel cercare di ridurre il livello del dolore e quindi del conflitto, e da cui cessate il fuoco, anche in qualche maniera preparare una transizione, affinché non ci sia un vuoto che potrebbe essere in qualche maniera riempito da chi? Dai terroristi o da chi non vuole altro che portare un'altra Libia in Siria. E sarebbe di gran lunga anche più grave, viste le diminuzioni del paese. Ho avuto molti amici morti, e dovete sapere, e me ne rendo conto, nei vari conflitti in cui sono stato. Ho visto la morte da vicino anch'io, ma soprattutto ho visto amici morire, colleghi che sono morti mentre tentavano di fare qualcosa di utile in un conflitto. Per questo ritengo che è molto importante quella parte di questo convegno che si dedicherà al post-traumatic stress. Ritengo che sia fondamentale aiutare non soltanto i nostri colleghi, chi lavora per la pace o per portare dell'aiuto medico nelle zone di guerra, che diventa traumatizzato, ma soprattutto per la popolazione civile. Pensate a quell'orrore di quei bambini che hanno visto nient'altro che bombe e nient'altro che vicini di casa uccisi o parenti. ricordate gli occhi esterefatti, totalmente perduti e nello stesso tempo silenziosamente rassegnati all'orrore di quelle bombe che non sapeva da dove venivano di quel giovane bambino che è stato poi visto in quella foto diventata simbolica dell'ingiustizia di questo conflitto. Conclusione? Beh, se dovessi dare un consiglio a me stesso, a noi tutti, a voi nel dibattere, qual è la migliore forma di prevenzione a questa pericolosa epidemia di conflitti regionali particolarmente in Medio Oriente? E userei una sola parola, una sola medicina. E quella medicina si chiama inclusione. Inclusione. Pensate bene, in fondo in Iraq la maggioranza era sciita e quando Saddam Hussein, ero lì, quando Saddam Hussein ha perso la guerra e quando ha perso il potere era giusto che le elezioni dovessero vinte e dovessero vinte da chi aveva maggiore numero di voti, i sciiti. Ero lì durante quelle elezioni. Ma quello che non era giusto è che è stato un grave errore poi di escludere la comunità sunnita, punirla, marginalizzarla, renderla in qualche maniera vulnerabile a chi, come Al-Qaeda, è andato a dire guardate, se state con noi almeno sarete sicuri che vi proteggiamo. in Siria stessa cosa, con la differenza che lì la minoranza è sciita, gli al-lawiti che controllano il potere e il segreto dovrebbe essere includere i sunniti affinché non in qualche maniera risultino vulnerabili a chi da parte sunnita dirà noi riteniamo che la migliore maniera per ricoperare in fondo quello che ci è dovuto è appoggiarci a degli orrori come il terrorismo. Questa direi è forse la parola che conta di più nel cercare sia nel prevenire i futuri conflitti in quella regione o altrove. Pensate altri conflitti dove ci è stata questa sensazione di non inclusione che poi è stata collegata con esclusione economica religiosa chiaramente bandiere di vario tipo ma alla fine è diventato il petrolio sul quale si è potuto da parte di chi la voleva a questo conflitto metterci il fuoco. Ultimo punto vi voglio farvi dire qualcosa perché è qualcosa che a me ha colpito molto guardate bene questo libro lo vedete? Beh guardatelo bene questo libro è stato fatto ed è prodotto da delle donne siriane le quali si sono organizzate e hanno ritenuto giustamente che parlare di numeri non è sufficiente e sono un libro nero che include i nomi i nomi di centomila persone esseri umani donne uomini bambini vecchi persone civili che sono morte a causa di questo conflitto ciascuna di loro ha una storia aveva una vita e ha trovato la morte in un conflitto di cui non sa i motivi per i quali è morta e soprattutto non sa se la sua morte ha prodotto in qualche maniera la pace almeno nel proprio paese bene questo libro contiene centomila nomi centomila persone ma io dovrei avere qui con me sulle mie ginocchia quattro di questi libri i quali infatti riproducono i 400 mila morti che oggi noi tristemente pensiamo che siano le vere vittime di questo conflitto oltre ai milioni di rifugiati ai milioni di sfollati al milione e mezzo di feriti gravi per questo questo convegno è importante affinché tramite la morte e l'analisi della morte e l'ingiustizia di un certo tipo di morte quella voluta dagli uomini su altri uomini possa in qualche maniera farci pensare grazie mi dispiace davvero non essere con voi ma spero di in qualche maniera in questo intervento grazie a tutti grazie a tutti